Io sono Fioral Baduma, ho 27 anni e da 16 anni sto in Italia. Da 16 anni però io mi ritrovo senza ancora la cittadinanza italiana. Ogni volta che vado all'estero ho un'ansia. A 16 anni sono andata in camposcuola a Praga. Mi dissero che rischiavo il non ritorno. Una volta la Ryanair non mi ha fatto viaggiare perché non accetta i viaggi in fase di rinnovo. Beh, è brutto, no? Ma tu sei italiana, ah ma non sembri albanese, ah ma quanto parli bene l'italiano. Ti fa proprio pesare, queste parole non sembrano complimenti. Sembrano più che altro reminder continui, cioè promemoria di tu sembri, hai tutto in regola. E poi però tu hai quella consapevolezza che non sei nessuno, cioè che l'Italia non ti calcola, non ti vuole. Noi siamo già l'Italia e siamo già accettati, siamo già parte dell'Italia. Dobbiamo soltanto essere inclusi a livello giuridico. La possibilità di votare, la possibilità di scegliere la propria vita, di fare un Erasmus di sei mesi, di un anno con tranquillità. Non dover pensare sempre a questo permesso sarebbe liberatorio.